A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 35.089,74 punti, al contrario, giornata di guadagni per il Nasdaq 100, che termina la giornata a 14.694,35 punti. Shenzhen segna un mediocre calo dello 0,53%, terminandogli scambi a 13.328,1 punti. Lieve aumento per il Fuzzi Mib, al pari delle principali borse europee, che si muovono sulla parità. Sostanzialmente tonico francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,65%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale del 0,44%, guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,39%. Risultato positivo a piazza affari per il settore viaggi e intrattenimento, con un più 1,64% sul precedente. Seduta decisamente positiva per Juventus, che tratta un rialzo del 3,09%. Annunciata la produzione industriale della Germania, pari a meno 0,3%. Domani, in Italia, saranno pubblicate le vendite al dettaglio. I mercati sono in attesa della produzione industriale sempre dell'Italia, in previsione mercoledì. Sempre mercoledì è in programma il dato sulle scorte di petrolio degli Stati Uniti.